Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dove mostro gli acquisti fatti nell'ultimo mese, nel mese di settembre. Sono tutte cose biologiche che possono riguardare il cibo, la cosmesi, eccetera. Per quanto riguarda il cibo, io mangio malissimo, non compro mai niente di bio, quindi vi mostrerò solo cosmetici. Ma perché è importante questo video? È importante perché è un video in collaborazione con altri canali piccoli come il mio. Visto che YouTube ci penalizza un po', allora noi canali piccoli abbiamo deciso di unirci e collaborare. Troverete ovviamente giù nell'info box tutti i link dei vari canali che partecipano a questa collaborazione e se anche voi avete un canale e avete il piacere di unirvi, siete ben accetti. Mi fa molto piacere perché questo video è in collaborazione con Peonia Blu, che è una ragazza che ho conosciuto anche di persona e mi piacciono molto i suoi video, mi piace lei come persona, mi piace il suo canale. E anche con Lalla e il signor JJ. Lalla e il signor JJ sono due persone che io seguo da quando hanno aperto il canale. Lalla in particolare, la seguiva in un modo particolare, mi piaceva molto, non so perché. Però, non lo so, forse empaticamente aveva qualcosa che mi ispirava e è merito o colpa sua se ho iniziato a dedicarmi alla cura del mio corpo, dei capelli. Perché prima, sì certo, mi curavo, però non stavo molto attenta ad alcune cose. Lei mi ha avvicinato al mondo del bio e mi ha fatto anche venire voglia di iniziare a fare i video. Quindi tutto questo, tra parentesi, è in merito suo. Quindi niente, c'è nell'info box e troverete i link dei loro canali. Ovviamente saluto tutti e tre e vi mando un bacio. Allora, partirei con gli acquisti dell'ultimo periodo. Il primo acquisto, anche se un acquisto non è, che vi voglio mostrare, è questa che si chiama Olivia, non ancora due mesi. È una gattina che io ho scelto, ho preso, volevo tantissimo un animaletto da compagnia in casa perché adesso qua in casa sono da sola e soffro molto di questa solitudine. E ho scelto questa gattina che è molto vivace, però è anche ultra, ultra, ultra coccolosa. Lei praticamente dorme insieme a me, ovviamente, ora cade. Dorme insieme a me e mentre dorme mi sciuccia il naso, puppa il naso, le orecchie. Insomma, lei vuole stare sempre appiccicata a me, mi cerca, mi chiama. Quindi, insomma, lei è un acquisto di questo mese. È biologica e non inquina, diciamo. E niente, è ecocompatibile. Quindi ho voluto inserirla in questo video. Anche se poi non è stato un acquisto, ma l'ho presa gratis e ora sta facendo la matta. Poi, a parte Olivia, ho acquistato anche alcune cose. Allora, intanto, alla Lidl ho preso questo detergente intimo della linea Seer Nature. Questo qua è con calendola e aloe, è un detergente lenitivo, è vegano, certificato BIOS. E il prodotto è questo. Io ancora non l'ho utilizzato, aspettavo di finire quello che ho in uso. Sono 300 ml di prodotto e ovviamente vi parlerò poi di questo prodotto. Tutti questi prodotti io ancora non li ho provati, aspettavo di mostrarveli. Poi, sempre della stessa linea, ho preso, sempre come novità, il deodorante spray delicato con fiori d'eliso bio, 75 ml. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi l'ho acquistato. Olivia Smetti. Poi ho fatto un ordine su un sito perché c'erano dei prodotti scontati in più, offrivano altri sconti. Quindi ho preso tutti questi prodotti a un prezzo veramente stracciato e ho preso i di Bio Happy, il bagno schiuma, la Mimosa. Io adoro la Mimosa e purtroppo non ci sono molti prodotti cosmetici, bio o non bio, alla profumazione di Mimosa. Quindi appena l'ho visto l'ho preso. E poi ho preso il The Real Balm di Anthos. Di questo l'ho sentito parlare benissimo e quindi ho voluto prenderlo per provarlo. E poi gli altri prodotti che ho acquistato sono dei prodotti che ho visto al Sana, delle novità del Sana che mi sono piaciute e che poi ho acquistato. Quindi se avete visto quel video avete la prova che non vi dico bugie quando, insomma, vi dico che sono stata colpita da un prodotto o da un'azienda. Allora, intanto ho preso la maschera equilibrante all'argilla gialla attiva di Anthos, che è quella che vi dicevo che sembra un po' una schiuma da barba, infatti è il beccuccino così. Penso che la proverò stasera. Poi ho preso di maternatura i cristalli liquidi ai fiori di vaniglia per capelli. Anche di questo ero molto curiosa, me lo sono asservato, ho messo tutti i prodotti in una scatolina per non scordarmi niente, però adesso non vedo l'ora di aprirli e di utilizzarli. E gli ultimi due prodotti sono stati due detergenti per il corpo, uno succo di fiori, che è con irisse e zenzero, della saponaria della nuova linea radici, e l'altro invece è dolce schiuma con carote e vaniglia, sempre della stessa linea radici. Sono due prodotti da 200 ml con plastica bio, sono vegani, eccetera, eccetera. Questi qua, il gatto sta facendo confusione. E niente, quindi questi sono stati i miei acquisti del mese di settembre. Ringrazio voi per aver guardato il video e tutti gli altri ragazzi e ragazze che partecipano a questa collaborazione. Mi raccomando, passate anche dal loro canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! 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 Ciao!